Avvocato Gebbia, quando un ragazzo normale finisce di essere un ragazzo normale e diventa un eroe? Ma io ritengo che tutti i ragazzi normali possono essere degli eroi, basta avere dentro di sé degli ideali nobili che si sono consolidati nell'arco della vita, che sono raffinati, ma mano a mano che si va avanti e Davide secondo me ha impersonato sicuramente questi ideali. Quando lei ha conosciuto Davide De Carolis? Io purtroppo non ho avuto né l'onore né la gioia di poterlo conoscere, non l'ho conosciuto in questa circostanza, ma devo dire che è come se l'avessi conosciuto da sempre. Perché lei rappresenta una buona parte del volontariato e dello scautismo terramano. Sì, diciamo io appartengo a queste associazioni che si ispirano allo scautismo internazionale e Davide secondo me ha impersonato perfettamente tutti quelli che sono gli ideali dello scautismo e soprattutto l'amore per la natura, la lealtà, la correttezza, la sincerità, ma lo spirito di servizio, il sacrificio, il donarsi agli altri, cosa che lui ha fatto in maniera incomiabile, creando secondo me una figura di eroe a Teramo, di esempio soprattutto per tutti i giovani, non solo Teramani. Cosa può raccontare, cosa può dire dell'esempio fatto da Davide De Carolis a coloro che iniziano questo percorso? Ma posso solamente raccomandare di atteggiarsi nei confronti del prossimo con lo stesso entusiasmo, con la stessa carica, con la stessa volontà con cui si è approcciato Davide, col sacrificio di tutti i giorni, silenzioso e comunque fattivo, tant'è che nessuno era a conoscenza del grande pubblico di questa sua vocazione, ma lo ha preso e enfatizzato in occasione del supremo sacrificio della sua vita, che è il dono che egli ha rappresentato per gli altri. Non è mai giusto morire in maniera innaturale, fra virgolette, come è morto Davide, ma è giusto poi perdere la vita per queste circostanze? Queste sono le domande che ognuno di noi si pone davanti a tragedie in mani, come quella che si è verificata qui da noi in Abruzzo, forse ancora non si capisce esattamente il contorno di questa sciagura, non dimentichiamo anche le vittime dell'hotel Rigopiano, ma la sciagura di perdere una persona cara che la mattina prima si era salutati, magari con l'idea di rivedersi il pomeriggio e non vederla più è sicuramente un dramma familiare, ma umano e cittadino enorme, irreparabile. Resta comunque la grande impresa che lui ha lasciato in tutti quanti noi terramani, in tutti quanti i giovani. A chi inizia questo percorso per il volontariato? Gli si dice, guarda che un domani potrebbe accadere anche a te? Ma io penso che chiunque che assuma la fiaccola, chiamiamola così, del volontariato, ha in sé l'idea, sia pure lontana, che possa mettere a repentaglio la propria vita. Ieri Sua Eccellenza il Vescovo, durante l'Omelia, ha fatto accenno a questa circostanza, cioè al fatto che ci si metta in discussione, ci si metta in evidenza, non per essere all'evidenza delle persone, ma perché si sente di doverlo fare. Quindi qualsiasi ragazzo, qualsiasi persona che oggi si pone in discussione nel volontariato, sa nel suo intimo che può arrivare al sacrificio supremo della vita per gli altri. Già questo, secondo me, è una cosa bellissima. Quando uno dice donarsi agli altri, forse non intende mai arrivare a quel livello, però purtroppo accade. Ma sì, donarsi agli altri non ha confini, non ha limiti. Si parte dalla semplice carezza, dal semplice pasto caldo alla persona bisognosa, e si giunge fino al sacrificio supremo della vita. Certo, nessuno sa che può arrivare a quel sacrificio nel momento in cui assume l'impegno sociale, ma nel momento in cui lo fa accetta anche questa evidenza.